quante volte noi donne ci siamo sentite dire che siamo troppo troppo emotive troppo schiette troppo ambiziose troppo forti beh noi abbiamo avuto bisogno di essere forti perché ancora prima di nascere ci aspettava un manuale di regole scritto per noi regole su come una donna si deve comportare mai essere troppo sicura di sé troppo coraggiosa troppo femminile nessuno può dirci chi siamo e chi dovremo essere noi crediamo in noi stesse e se crediamo in noi stesse possiamo affrontare qualsiasi cosa sono matilde gioli e sono determinata sono nina rima e sono impulsiva sono nilufar e sono sognatrice nessuno è mai troppo ciao